Ieri la firma del decreto di nomina oggi a lavoro nelle vesti di comandante della Polizia Municipale di Salerno, il capitano Rosario Battipaia Salernitano prossimo a festeggiare il suo 62esimo compleanno e il vincitore della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico a tempo determinato per tre anni rinnovabili di dirigente e comandante della Polizia Locale ex articolo 110 del decreto legislativo 267 del 2000. Assunto nel 1989 da subito in forza al reparto motociclisti, poi dal 2017 responsabile dei motociclisti, viabilistica, sala operative ufficio servizi, corpo di guardia, ufficio infortunistica stradale e sinistri accidentali, dal 2018 vice comandante reggente dell'uscente comandante Antonio Vecchione, il nuovo capo dei vigili urbani Rosario Battipaia nell'arco degli ultimi 20 anni e il primo ad assumere l'incarico di comandante per titoli avendo superato il concorso dove erano candidate altre 20 figure. Grande soddisfazione da parte di tutti gli agenti di Polizia Municipale di Salerno con il quale Rosario Battipaia ha costruito solidi rapporti personali e professionali, 188 i vigili urbani che formano il corpo di Polizia Municipale di Salerno di cui 60 affidati alla viabilità. Sono nato in questo comando, sono salernitano per cui tengo alla mia città in particolar modo, per cui spero di essere all'altezza, mi auguro che vada tutto bene, nonostante abbiamo alcune diverse criticità, però le criticità sono fatte per essere superate, auguriamoci in bene. E null'altro, la mia promessa a massimo impegno come d'altronde in questi anni già ho fatto, ancora di più oggi, chiedo la collaborazione della cittadinanza perché effettivamente non possiamo arrivare in tutti i punti perché abbiamo un po' di carenze a livello di unità, per cui siamo impossibilitati ad arrivare in ogni punto dove ci reclamano, quindi chiedo scusa per quanto concerne quando non possiamo intervenire, però vi assicuro che ho dei collaboratori all'altezza. Una lunga carriera alle sue spalle, lei nel 1989 è stato assunto al reparto motociclisti per tanti anni, poi ha assunto anche altre responsabilità per altri settori, insomma una conoscenza ad ampio raggio di tutti i compiti e di tutti i servizi della Polizia Municipale, è un dato da non trascurare che per la prima volta dopo almeno gli ultimi vent'anni viene assegnato il comando della Polizia Municipale per concorso ad una persona che già indossa la divisa in questo corpo. Sicuramente, sicuramente sì, questo è vero. Conosco il tessuto sociale, il tessuto cittadino, sono stato motociclista per 28 anni, per cui sto sempre in collegamento col reparto, per cui ho vissuto dentro la città con interventi di vario genere, per cui sono stato fortunato, nel senso che ora ricopro un incarico particolare, però ho quel poco di esperienza, mi permetto di dire, che è importante, serve, è importantissimo perché la coniugazione tra il sapere a livello giuridico e quindi l'aver vissuto su strada ed essendo, come dire, l'operatività è importante. E' importante anche perché lei, lo dicevamo, è nato con la Polizia Municipale nel 1989, in tutti questi anni sono cambiati e sono aumentati i compiti della Polizia Municipale, spesso il cittadino guarda il vigile solo come chi vigila sulla viabilità, ma invece ricordiamo che ci sono tanti settori di vostra competenza con purtroppo un numero di agenti abbastanza ridotto. Ha detto tutto, insomma, tutto esatto, sicuramente. Noi operiamo a 360 gradi, noi abbiamo, andiamo dall'edilizia, dall'annonario, dalla Polizia Giudiziaria, dai servizi e poi dai servizi essenziali di viabilità su strada, quindi traffico, sosta e chi più ne ha più ne metta. Quindi noi abbiamo parecchi compiti, parecchi, parecchi, parecchi. C'è già una priorità, un primo obiettivo da raggiungere che magari ha sempre avuto nel cassetto ma ovviamente non era al comando? Senta, la priorità è incentivare ancora di più la nostra presenza per quanto possibile sul territorio. Verificherò di persona le cose che non vanno, che possiamo aggiustare, alcune criticità in particolare. Sicuramente ci sono degli adattamenti da fare, da registrare e lo faremo, senza ombra di dubbio lo faremo. Grazie a tutti.